Gli atti relativi all'accusa di falso ideologico del processo per la morte del piccolo Maxim tornano alla procura di Pescara. La Corte d'Assise di Chieti ha accolto un'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla difesa di Patrizia Silvestri, moglie di Massimo Maravalle, reo confesso della morte del bimbo di cinque anni soffocato nel sonno nella notte fra il 17 e il 18 luglio 2014 a Pescara. Lo scorso 9 febbraio nel processo con rito abbreviato davanti al GUP di Pescara Nicola Colantonio, Maravalle era stato assolto dall'accusa di omicidio in quanto non punibile perché affetto da disturbo psicotico, in base alle perizie dello psichiatra Renato Ariatti. Nello stesso processo l'uomo è stato condannato ad un anno di reclusione e pena sospesa per falso in concorso. Davanti alla Corte d'Assise di Chieti erano finiti la moglie di Maravalle e i medici Giuliana Iachini del servizio di medicina legale del lavoro dell'asle di Pescara e Fabio Panzieri, medico di famiglia, tutti accusati di falso in relazione all'adozione internazionale del piccolo Maxim. I due medici, nell'ambito delle stesse procedure, avrebbero redatto certificati che attestavano l'assenza di patologie in Maravalle. Secondo l'avvocato Vasile, che difende Patrizia Silvestri, il rinvio operato dinanzi alla Corte d'Assise di Chieti è apparso una violazione dell'articolo 25 della Costituzione, che enuncia il diritto al giudice naturale. Ora il PM di Pescara dovrà riformulare le accuse in modo che il procedimento torni davanti al GUP e infine davanti al Tribunale monocratico del capoluogo adriatico.